la segna stampa di oggi 3 febbraio 2018 questa è la seconda edizione cari amici vi ricordo che la segna stampa edita da rst saioz pianeta oggi tv macerata spara gli immigrati dall'auto sei feriti fermato avvolto nel tricolore ha fatto il saluto romano nel 2017 fu candidato dalla lega e caccia un complice aperto il fuoco in diverse zone di macerata gettando nel panni con la città per oltre due ore girando su un alfa romeo 147 nera aperto il fuoco con una pistola prendendo di migrati ferendo almeno sei due sono gravi sempre a macerata forza nuova dice pieno sostegno a luca traini salvine dice immigrazione controllata porta a scontro sociale mentre i leader di fratelli d'italia lega vedono in quanto accaduto le conseguenze delle politiche sbagliate del centro sinistra lo scrittore roberto saliano dice il leader del carroccio il mandante morale caserta chiede di poter i padre chiede di poter incontrare la professoressa accoltellata dal figlio che ieri diceva forse ho fallito la docente ha riportato una profonda ferita la guancia sinistra ma è stata dimessa sabato mattina dall'ospedale con 32 punti di suturo e secondo quando riferisce il mattino alla direttrice scolastrica giuseppe maria scambata caldo ha detto non faccio del male a quel ragazzo madonna mia non ce l'ho fatta a cambiarlo rivorno appello dell'associazione cittadini per la mediazione contro la privatizzazione del porto medicio la petizione su change.org ciò che preoccupa una cittadinanza attiva e politicamente sensibile e la sostituzione di un uso plurale di un bene pubblico e con un uso individuale Trump rilancia gli armamenti nucleari via l'espansione del nostro arsenale e individua gli antagonisti in Cina e Russia si tratta del primo aggiornamento che Washington apporta dal 2010 alla sua politica sulle armi nucleari il piano include anche il riferimento a un possibile massiccio cyberattacco che faccia andare in tilt la rete elettrica quella delle telecomunicazioni o la rete internet bene cari amici con questo è tutto vediamo appuntamento alla prossima rassegna stampa vi ricordo che la rassegna stampa edita da rst science e pianeta oggi tv buon proseguimento con la programmazione